Buongiorno, sono Anarita Morelli, consulente Remax della Polare. Oggi ci troviamo nell'affascinante città di Trani e andremo a visitare un appartamento meraviglioso con pertinenza. Un appartamento che si trova all'interno del condominio Le Torri, costruita da Graziano. Andiamo a vederlo? Seguitemi! Buongiorno di nuovo, accomodiamoci in questa bellissima casa. Ci troviamo all'interno di questo meraviglioso salone doppio, munito di balcone. La distribuzione dell'appartamento è molto razionale. La cucina, con affaccio sul primo balcone, viene divisa naturalmente dalla zona di conversazione attraverso un affascinante arco rivestito in scorza di pietra di Trani. Un'importante rifinitura che ritroviamo su questa parete. Una porta a scrigno ci conduce nel corridoio. Qui abbiamo la prima e ampia camera da letto, che gode dell'affaccio di un meraviglioso balcone abitabile. Un bagno padronale con vasca angolare, imprezzosito dalla presenza di ottime rifiniture. Ancora un'ante e godibile camera matrimoniale, arricchita dalla presenza di una comoda cabina armadio con il suo bagno con doccia a servizio. Uno dei plus della casa è questa grande veranda con doppio affaccio, dove poter trascorrere ore liete di relax. Ed infine, una pratica terza camera, attualmente adebita a studio. Oggi abbiamo visto un appartamento meraviglioso, con rifiniture di pregio, pronto per essere abitato. Inoltre vi ricordo una cosa importantissima, abbiamo a disposizione una pertinenza meravigliosa. Un grande box di circa 36 metri quadri. Cosa state aspettando? Dovete immediatamente chiamarmi. Alla inoltre viaggio